Vale, l'erba del vicino è sempre più verde. Questa è una citazione veramente che mi scuote. Ti scuote, ti ve, ti scossa. Del profondo, sono scossa. Sai una cosa, io quando la sera magari cammino, guardo nelle finestre illuminate e mi immagino chissà cosa sta succedendo in quella casa in quel momento. Magari ci sono due che stanno litigando, si stanno per lasciare oppure sta nascendo una grande storia d'amore, c'è qualcuno che muore, c'è qualcuno che nasce. Ti dirò che la capisco come cosa, perché quando sono in giro, ad esempio, non so, sui mezzi pubblici, guardo sempre le persone e magari quelle che sono insieme, in gruppo, in coppia e cerco di capire la relazione che c'è tra di loro, quanto sono legate, quello che si raccontano. Poi mi diverto tantissimo a vedere quelle che fanno le amicone e poi magari appena si salutano partono i commenti, commenti quelli cattivelli. Però fra noi non sarà mai così. No, vale. Noi saremo sempre sincere. Ma noi saremo sempre sincere, la nostra vita non è come quella dell'Italia. No. Se potessimo vederci con gli occhi degli altri, scompariremmo all'istante. Le vite degli altri, questa puntata la iniziamo con una citazione di Emil Cioran. Noi però non scompariamo, noi siamo sempre qui, sempre presenti, non scoloriamo dalle vostre vite. Le vite degli altri, la vita di un'altra, ma non di un'altra qualsiasi, la vita della nostra Valeria, che è piena di tutte le cose che noi ancora non sappiamo, ma che grazie a lei scopriamo. La crema sono alla fabbrica del vapore, dove hanno allestito, come puoi vedere, una serie di gazebo, prati o orti, proprio per chi ha voglia di fare una passeggiata. Qui ci sono dei tavoli dove puoi fare picnic, ho anche intercettato una mostra di arte africana, e poi sullo sfondo, dopo te lo farò vedere, troneggia il manifesto della mostra di Harry Potter. Allora, io non sono ancora andata, ma molto presto farò una puntatina per vedere il maghetto più famoso del mondo. Io sono una grande appassionata di Harry Potter, peraltro. E quindi godetevi questo momento di verde, di oasi. Il sabato, poi c'è il mercato della terra, non tutti i sabati, il primo e il terzo sabato del mese, c'è il mercato della terra dove vengono venduti prodotti che arrivano dagli orti, un po' di pane, verdura, frutta, insomma, venite qui a rifornirvi, fabbrica del vapore. Ciao! E per andare alla fabbrica del vapore si passa davanti al monumentale, non è per la chaise, ma a me piace tantissimo. Di fatto ogni tanto vado a farmi un giro per vedere le sculture. E si passa proprio davanti al monumentale, il nostro cimiterone. Le vite degli altri, che ci sembrano sempre così lontane, remote, qualcosa che non ci appartiene, fino a che poi non irrompono nella nostra vita e diventano la nostra vita. E allora magari a volte è giusto accorgersene prima, che non sono in realtà poi così distanti da noi. E sono qui al cortile della Rocchetta, bellissimo. Andate a visitarlo il Castello Sforzesco, perché veramente noi a Milano abbiamo dei luoghi meravigliosi e non ce ne rendiamo conto. E al cortile della Rocchetta c'è la mostra di Silvia Amodio, Io sono, ero e sarò, che è dedicata alla prevenzione del cancro al seno. Andiamo a vedere. Andate a visitarlo il Castello Sforzesco. Ed è un messaggio molto importante quello che ci lascia appunto la mostra Io sono, ero e sarò di Silvia Amodio. Ed è quello che bisogna prevenire. Quindi ditelo a voi stesse per primo, ma anche alle vostre figlie, alle amiche, alle cugine, a tutte le donne. E se siete un uomo, fate la stessa cosa. Prevenite. Prevenzione. La mostra è gratuita. Al Castello Sforzesco, fino al 19 giugno. Venite. Più che le vite degli altri, le anime degli altri, che sono sempre così inafferrabili, che sono sempre così nascoste. Cari amici, quest'oggi mi trovo a casa di Silvia Raffaele. Sì, sì, avete capito bene, l'anima nascosta che vi voglio raccontare è una casa privata, che oggi si chiama Che Silvi. E io ho conosciuto Silvia e Raffaele qualche anno fa, quando si chiamavano Compagnia del Tè, che era un'associazione culturale con cui loro organizzavano qui in casa loro degli appuntamenti culturali, delle serate, abbinate a una cena, abbinate al cibo, che avevano sempre come sfondo un paese del mondo, un paese esotico, un viaggio, un racconto di viaggio, che poteva essere raccontato attraverso una conferenza, una presentazione di un libro, oppure la presentazione di un viaggio, uno spettacolo teatrale, e poi era sempre unito a una cena dove Silvia e Raffaele insieme preparavano il cibo e anche il tè. Da qualche anno Silvia ha deciso di istituzionalizzare di più questa cosa, agganciandosi al trend molto ormai in voga, soprattutto a Milano, che è quello dell'home restaurant, e quindi tutti voi avete la possibilità di prenotare una cena a casa loro e immergervi in un viaggio fantastico in giro per il mondo nella meravigliosa cornice di casa loro. E quindi adesso vi accompagno a conoscere Silvi, che ci spiegherà meglio di che cosa si tratta, anche l'agenzia di viaggi, che potete cominciare ad assaporare in casa sua, e Raffaele, che invece è un grande esperto di cerimonia del tè. L'avventura inizia nel 2009, quando con Raffaele decidiamo di aprire la nostra casa a degli sconosciuti, per degli eventi culturali ad ampio spettro, dalla presentazione di poesie a romanzi. Io sono un agente di viaggi, e quindi proporre il mondo in modo diverso è una cosa che mi è sempre piaciuta. Unire proprio le mie due anime, quella dei viaggi e quella del cibo, per creare Chez Silvi, invenzioni culinarie e viaggi da raccontare. Nel mio home restaurant, organizzo delle serate a tema, dove la parte culturale viene sempre comunque offerta, donata da noi agli ospiti, e quello che si paga è sostanzialmente solo la partecipazione a una cena, piuttosto che a una degustazione. Un evento divertente è stato il tè incontra il vino e gli strezza l'occhiolino. Allora, stiamo preparando un tè, che si chiama Lo Jin, che proviene dalla Cina, dalla provincia dello Zhejiang. Qui parliamo di una provincia costiera, di poco successo alla linea di Taiwan. Questo tè, chiamato Dragon Well, in inglese Fontana del Drago in italiano, è anche indicato spesso come il parmigiano reggiano dei tè cinesi. Ora andiamo a fare l'aspillatura, cioè la filtratura del tè, utilizzando un colino. Come vediamo le foglie del tè sono state lasciate allo stato libero, quindi le vengono filtrate soltanto al momento dell'aspillatura. In questo modo, l'infusione avviene in una maniera più corretta, perché le foglie sono libere di muoversi in tutto il vaso di infusione con le loro correnti convettive che le spostano dall'alto verso il vaso. Abbiamo scelte svasate perché nel periodo caldo dell'anno la tradizione vuole che la tazza sia aperta per favorire il rinfrescamento della bevanda, mentre l'inverno si preferiscono delle foglie più chiuse. Sedersi sul divano, spegnere le luci e guardare le vite degli altri, che sia attraverso le immagini che compaiono su uno schermo oppure attraverso le note musicali che risuonano dalle casse. Consigli cinematografici della Vale anche questa settimana. Due i film che vi consiglio, uno un po' di più, uno un po' di meno. Allora, il primo è... vi do un indizio. Il regista è stato protagonista di Happy Days, quindi Ricky Cunningham, Ron Howard e il film è solo il prequel di Star Wars. Allora, sono andata super negativa ma avevo promesso a Tobia otto anni che l'avrei accompagnato e devo dire che invece poi alla fine queste due ore e un quarto, perché sono due ore e un quarto di film, non mi sono affatto dispiaciute. Ma passiamo al secondo. Il secondo, vabbè, il secondo è un film che si intitola Ippocrate, anzi, siccome è francese, Ippocrate. È un film francese, come ho già detto, e quindi mi piace, già così. E in più parla della vita di corsia, di ospedale, quindi mi piace doppiamente. Quindi avete capito che il film mi è piaciuto. È un film piccolo, non racconta grandi cose, ma la storia di un giovanissimo medico alle prese con tutto quanto avviene in un ospedale. Ha un bel ritmo, è interessante, ha un taglio quasi documentaristico. Io ve lo consiglio. A proposito del cinema di Vale, c'è un film che ha proprio il titolo di questa nostra puntata, Le vite degli altri, a cui sono profondamente legata. Ne sono da un lato molto spaventata, però da un lato lo ricorderò sempre come uno dei film più belli che io abbia mai visto, legato a un momento molto importante della mia vita. Guardate Le vite degli altri, se non le avete ancora guardate. Ve lo consiglio davvero. E a proposito di ciò, rimaniamo in tema e il libro che vi consiglio questa settimana è L'Amico ritrovato. Vi leggo una citazione. Per la prima volta mi resi conto della mia infinita piccolezza e del fatto che la nostra terra non sia altro che un sassolino su una spiaggia dove di sassolini esistevano milioni. E allora se anche la terra è soltanto un sassolino tra un'infinità di sassolini, alla fine lo è anche la nostra vita. Una pietruzza, in mezzo a miliardi di pietruzze. Allora sta a noi rendere la nostra pietruzza speciale. Fuoricampo è il terzo album in studio del gruppo musicale Dei Giornalisti, pubblicato nel 2014 dalla Fulica Records. In quest'album troviamo sonorità e parole che ricordano i grandi cantautori del passato musicale italiano, a partire da Lucio Dalla, passando per Lucio Battisti, fino ad arrivare ad Antonello Venditti. Fuoricampo fu il disco della svolta per la musica indipendente italiana, che da quel momento cominciò ad essere trasmessa anche dalle radio private. Il primo disc jockey a passare un pezzo dei giornalisti fu Federico Russo nel suo programma su Radio DJ, che fece conoscere alla nazione il timbro vocale di Tommaso Paradiso. Ogni canzone del disco la si vorrebbe urlare a squarciagola e senza freni, con testi capaci di far vivere sulla pelle dell'ascoltatore le sensazioni proposte, anche quando queste non parlano di esperienze vissute. Tra i tanti bellissimi brani, il mio consiglio di oggi va su una canzone per me molto importante, che evoca un periodo felice della mia vita. si intitola La fine dell'estate. La mia malinconia è tutta colpa tua, è solo tua, la colpa è tutta tua e di qualche firma anni Ottanta. Buon ascolto! E invece forse Lara Vai e Marco Rigamonti avrebbero voluto essere nella vita di qualcun altro in questo periodo, perché la loro è stata complicata, intensa, piena di prove, però ora vi diamo la dimostrazione che è nevarsa la pena. Il progetto Matilda nel 2018 è il suo secondo anno. Abbiamo iniziato l'anno scorso questo, diciamo, link con Londra e con la Shakespeare House e vede questo progetto londinese che è campione di incassi da 13 anni ormai a prodare a Milano. MTM è l'unica sede milanese di questa Academy, ce ne sono 14 nazionali e che ha visto coinvolti in questi praticamente due anni di lavoro più di 60 ragazzi e durante i workshop centinaia e centinaia di bimbi coinvolti. È una disciplina chiaramente musical per cui canto, danza, recitazione, una riduzione del famoso testo di Roald Dahl trasformato in musical e che è approdato qui come penso prima ed unica a Academy milanese. L'anno scorso, quest'anno, almeno una sessantina, più di sessanta, ai workshop poi ovviamente molti di più e in particolar modo quest'anno in scena sono andati in 32. In 32 giovanissimi performers È importante, è vero, dai 16 anni quindi giovanissimi in realtà. Metà più piccoli metà più adolescenti diciamo. Loro affrontano le discipline della recitazione, della danza e del canto. hanno fatto 5 repliche di Matilda 3 in italiano e 2 in inglese cioè anche i recitati in inglese. Sono stati seguiti da un tutor madrelingua per cui questa cosa è importantissima perché come dire il progetto formativo è bilingue che ha una peculiarità importante per una volta che lo vedi questo spettacolo hai veramente voglia di interpretarlo per cui siccome è un musical familiare sono venuti tantissimi bambini a vederlo e credo che molti di loro troveranno l'audizione per entrare. Che la vita sia degli altri o la vostra rendetela più croccante con il pane di Elena. Basta con le vite degli altri appropriatevi della vostra vita e fatelo sedendovi sulle nostre poltrone rosse. Noi ci vediamo lunedì prossimo ciao a tutti!